Il Presidente Alessandro Massi ha convocato il Consiglio Comunale della città di Tolentino che si riunirà giovedì 30 maggio alle ore 16.30 presso l'auditorium delle SSM in Via Roma per trattare il seguente ordine del giorno. Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale Interrogazioni di Luconi su Scuola 815 e Comando Polizia Locale di Deste su Ordinanza Speciale numero 76 del 2024 e Sede Comando Polizia Locale Approvazione dello schema di convenzione inerente ai rapporti tra la stazione unica appaltante Marche e il Comune di Tolentino avente ad oggetto la delega delle procedure ad evidenza pubblica Inoltre modificazione del piano di valorizzazione del patrimonio 2024-2026